Donne boss, proprio come Chanel di Gomorra, con i loro compagni in carcere, erano loro a comandare. Rita Pepe, 28 anni, compagna del boss detenuto Pasquale Pesce, aveva assunto un ruolo di comando, proprio come Chanel era lei a gestire gli affari e le casse. La sua autorità, quasi come in una trasposizione nella realtà della finzione, non doveva essere messa in discussione, in un'occasione emerso dalle indagini, presi addirittura a schiaffi un affiliato che non l'aveva riconosciuta. La sua figura emerge nell'ambito delle indagini che hanno portato ad un maxi blitz la scorsa notte della squadra mobile nel quartiere di Pianura, dove per anni i clan rivali Marfella Pesce e Mele si sono dati battaglia tra spari, sgarri, sfide e sangue. 27 provvedimenti cautelari notificati, 7 dei quali a persone che erano ancora a piede libero, tra cui proprio la Pepe. La polizia ha anche notificato un provvedimento di presentazione alla polizia giudiziaria, alla seconda donna del clan, ritenuta vicina a Mele, giovanissima, Simona Luongo, 24 anni, il prossimo aprile. I capi clan da dietro le sbarre intanto continuavano a impartire ordini. Le piazze di spaccio rappresentavano l'affare milionario. Achille gestiva il saldo di una mensilità da pagare per poter spacciare, per poter lavorare. L'attività investigativa ha anche messo in evidenza l'enorme quantità di armi che i clan avevano a disposizione, usate nello scontro armato, sfociato tra l'altro anche nell'omicidio di Luigi Aversano, avvenuto il 7 agosto del 2013, ucciso a pianura dai Marfella Pesce.